amici ben trovati e come ogni anno siamo qua quest'anno se vi rivedete in questi posti se vedete un amico se lo riconoscete comunque telefonateci dovete senza nessuna pretesa di viscomica esagerata noi cercheremo di andarvi a rintracciare nella nostra isola tutti quanti hanno l'isola c'è l'isola dei famosi e c'è l'isola degli sconosciuti grazie a tutti Grazie a tutti.